Pesaro torna ad essere dotata di una spiaggia per cani. Il tratto di arenile di Baia Flaminia in prossimità della Fuce del Foglia torna infatti ad essere a Baia Flaminia, ovvero uno spazio dedicato ai possessori di cani che vogliono godersi un bagno al mare senza rinunciare alla presenza del proprio amico a quattro zampe. Il tutto in una spiaggia che resta libera ma predisposta al servizio di noleggio di ombrelloni lettini così come di canoe, kayak o soup. Il tutto col supporto di un'educatrice cinofila sempre presente. Oggi l'inaugurazione di un servizio che sarà di nuovo gestito da Giovanni Dallago che si è giudicato il bando comunale assieme alla società E-Wave. Siamo felicissimi oggi di riaprire la stagione anche per i nostri amici a quattro zampe e quest'anno con qualche novità e poi nei prossimi anni sicuramente si andrà a strutturare una cosa un pochino più concreta. Rimane totalmente una spiaggia libera dove si possono noleggiare lettini e ombrelloni. In determinate giornate ci saranno delle persone qualificate come l'educatrice cinofila Cinzia Signoretti che ci aiuterà e supporterà non solo a noi e nella gestione ma anche tutti i nostri amici a quattro zampe e i clienti. Importantissimo perché è l'unico posto dove si possa portare a Pesaro il cane al mare e lasciarli sempre a casa con questi caldi non mi sembra che sia una buona idea. Soprattutto la doccia perché un po' di acqua per sciacquarsi dalla sabbia mi sembra fondamentale. Noi di Wave metteremo a disposizione dell'attrezzatura sportiva sia per i clienti che per i clienti accompagnati dai cani quindi promuoveremo giornate di soup dog, kayak con i cani, noi abbiamo anche degli foil che vedete alle mie spalle e saranno sempre a disposizione dei clienti e di chi volesse noleggiarle. In più ogni venerdì di luglio poi si programmerà anche per agosto avremo delle giornate dedicate a far provare gratuitamente queste attività ai clienti. Con l'educatrice cinofila è importantissimo per dare i consigli per cercare di evitare che qualche cane si possa litigare, fare delle attività insieme al proprio cane quindi divertirsi ma anche come è successo poter, se succede qualcosa a un cane, poter intervenire proprio per fare ad esempio un pet festide, cioè fare un massaggio cardiaco, una respirazione a un cane quindi è molto importante che ci siano delle persone, quindi sono qualificate anche gli altri ragazzi dalla nostra struttura per fare questo. Quindi l'importanza di poter avere qualcuno che in toto ti aiuta con il tuo cane.